L'ultimo gol il 12 dicembre del 2022 nella partita contro il Bitonto, poi la rottura del legamento crociato e la rinascita proprio con la maglia neroverde. Santiago Chacon ritrova la rete e permette agli uomini di Santoruvo di impattare un A1 in casa del Gallipoli in un autentico spareggio salvezza di Munoz, l'acuto che alluso i giallorossi nel primo tempo. Stanno bene gli uomini di Cavallaro nonostante la sconfitta di Manfredonia, serve un nuovo scatto per avvicinare ulteriormente il dodicesimo posto. Al bianco nel 3-5-2 Altamura trova posto accanto all'intoccabile Munoz, in mezzo al campo il collaudato pacchetto Scialpi Donnarumma-Migiano. Tra le file bitontine Santoruvo rinuncia dall'inizio a Palazzo schierando De Michele con figliolia, in mediana Obodo vince il ballottaggio con Stragapete. I primi scampoli di partita sono tutti del Gallipoli, Altamura spalla la porta, apre Permigiano, palla a Munoz tutto solo, salta a Diamè ma è troppo lento del calciare, occasione monumentale. Ritmi gradevoli e risposta bitonto al dodicesimo, Muscatiello da fuori calcia in bello stile trovando una deviazione che per poco non beffa Dima, solo corner. Al diciottesimo Scialpi la posizione assai probitiva per un destro, calcia in maniera di poco perfetta, cogliendo l'incrocio dei pali a Diamè più che sorpreso. C'è molta lotta a centrocampo, Muscatiello evita il body check di Migiano ma alza troppo la parabola sulla testa di Dima. Botte risposta continuo, Munoz ha luce sulla tre quarti e calcia, Diamè ha altri piani e respinge in corner. Obodo nell'altra metà campo calcia da matonella interessante ma il destro non scende a sufficienza. Al quarantesimo l'episodio che indirizza l'incontro, Migiano-Crossa, Munoz vince il duello aereo con Murillo, addomestica e fredda Diamè per l'1-0 Gallipolino che chiude un bel primo tempo. Nella ripresa Santorumo si affida a Palazzo e Coppola per le vanescente Figlioli e Obodo. Al cinquantasiesimo, bella uscita a palla al terra del Bitonto, Stasi vede il movimento centrale di De Michele ma il classe 2004 non fa meglio di così disperandosi. Santorumo sfodera tutto l'arsenale offensivo inserendo Chacon, l'argentino trova la meritata fortuna al minuto 81, la difesa del Gallipoli pasticcia sulla palla centrale, l'ex Gravina è lì e ritrova un gol atteso da oltre un anno, tutta la gioia del Bitonto e del nativo di Buenos Aires al primo gol in questo campionato. Il gol subito è un energizzante per il Gallipoli, Schalpi rientra con la solita maestria ma Diamè in tuffo preferisce non correre rischi. Il portiere 2004, i rischi li corre come al novantacinquesimo, da calcio piazzato la mischia pregna bacca che calcia a botta sicura esaltando i riflessi di Diamè, parata senza senso con i piedi che permette al Bitonto di portare un punto a casa. Sale adesso a 23 il bottino dei ragazzi di Santoruvo, penultimi ma meno due dalla zona play-out occupata proprio dal Gallipoli. Nel prossimo turno, per il Bitonto, difficile sfida a Manfredonia, per il Gallipoli, altro scontro diretto in quel di rotonda.